roghi tra lorenzo nato 8 9 1945 a san marsante san giuseppe provincia di taranto quindi scuola io non ho frequentato ho frequentato solo fino alla seconda alimentare perché la famiglia non stava nelle condizioni economiche di potermi mandare alla scuola nel 54 vengo assunto in una masseria e mi davano 4 mila lire al mese dove iniziava a lavorare dalle 5 la mattina alle 8 8 e mezza di sera e quindi con questi 4 mila lire al mese andavano alla famiglia per andare a portare un po di soldi all'interno della famiglia perché la famiglia mia troppo povera quando lavoravano e stava alle pecore la mattina dava la cosa alle pecore e poi la giornata andava a guardare i pecore nei campi portava i campi fino alla sera agli 5 e mezza agli 6 poi dovevano fare il latte e quindi seguivano agli 7 e mezza agli 8 e poi si mangiava la sua azienda stessa e si dormiva dentro il capannone dove stavano gli animati i vacche cioè le mucche stavano la e quindi da era la stanza non stanzino dove dormevamo questa è la prima esperienza di lavoro che ho fatto secondo esperienza ho continuato a fare il bracciante agricolo lavorando lavorando in un'azienda agricola santo susanna in agro di grottaglie in questa azienda dove c'erano circa 50 dipendenti al giorno tra donne e uomini avevo 15 12 anni quando sono andato in questa azienda a 12 anni e quindi lavoravo in quella azienda la fino al 67 ho lavorato in quell'azienda fino al 62 scusa fino al 62 perché nel 63 sono stati migranti a torino sono stati cinque mesi a lavorare lì con una cooperativa e dopo sono ritornato nuovamente a san marsano perché ho iniziato a lavorare di nuovo a questa azienda qua quando l'anno di questa azienda che succede succede che che ho conosciuto un compagno che era segretario dell'ecfe del bracciante che era amica letrane in quell'azienda e mentre lavoriamo è successo un infortunio su quell'azienda un infortunio che durante l'irrigazione un altro operaio lascia il tubo dell'acqua e mi cade sul sul piede e quindi volta l'infortunio è un compagno allora era direttore dell'inc nel 67 il compagno fiorendolemma fiorendolemma che era direttore dell'inc dice senti lorenzo lei ha diritto a percepire tre giorni di indennità da parte dell'azienda l'ho chiesto all'azienda e ha detto non se ne parla per niente non ti riconosciamo perché non ti aspetta niente su questa cosa e quindi ho ritornato nuovamente alla gambe del lavoro lì a san marsano dicendo vedi che non mi aspetta niente e hanno fatto la denuncia ispettorale del lavoro questa denuncia ispettorale del lavoro ha obbligato l'azienda a pagarmi i soldi e mi lasciano 3.000 lire quei soldi da parte dell'azienda questo 3.000 lire è donato un odio all'interno dell'azienda e furi licenziato per questa cosa in quella azienda e cominciò la lotta sindacale in quella in quell'azienda là quindi dal 67 poi comincia a prendere attività attiva all'interno del sindacato io e quindi continua a frequentare l'organizzazione insieme agli altri compagni lavoratori di quell'azienda stessa là mentre andavamo avanti su questa cosa del rispetto salariale c'è un sciopero generale fu bloccato tutte le aziende per un rinnovo contrattuale questo rinnovo del contratto collettivo del lavoro per il lavoratore agricolo si parlava un patto di lavoro manco di contratto patto di lavoro e quindi bloccammo l'azienda in quel momento e andavamo avanti in questa storia dopo di che il compagno michele trani mi offre dice lorenzo vedi che tu deve crescere non ti prende avevo paura la scuola la facciamo noi che mi mandano alla scuola riccia della cgl e 67 il 4 di settembre nel 67 io mi era anche sposato nel 67 avevo una bambina e ma alla scuola la effetto un mese di attività con un compagno che insegnava santo moretti nella fede braccianti e quindi continuammo poi a ritornare nuovamente a san marzano a fare il bracciante non più in quella azienda ma in un'altra azienda continuammo a lavorare e portando avanti una battaglia sindacale per il rinnovo contrattuale di nuovo dove la quale poi riusciamo a conquistare l'11 marzo del 1970 la legge sul collocamento agricolo dalla quale prima c'era tutto il mercato di piazza su questa cosa qua tutti i lavoratori venivano chiamati sul mercato di piazza mentre erano stati costituiti con quella legge 83 sul collocamento agricolo delle commissione comunale che dove obbligava le aziende ad assumere della mano d'opera e fa presentare i piani culturali per quanto riguarda la l'attività lavorativa sia quantitativa sia qualitativa entro il 30 ottobre nello stesso tempo conquistiamo anche il diritto per contratto non solo per legge anche per contratto questa questa normativa e conquistiamo anche il rispetto del di alcuni diritti in quel momento gli agrari si ribellano contro il sindacato contro di me cercando di scaricare la responsabilità di lasciare i lavoratori a casa senza prendere più a lavorare questi lavoratori lavoratrice dicendo la corpa del sindacato di lorenzo roghera perché lui ha voluto fare questa legge qua in questa situazione mentre invece si spingeva a livello provinciale con dottor gian casparo e direttore allora l'ufficio provinciale del lavoro di taranto per convocare queste commissioni e non si non si convocavano i lavoratori vengono a massa contro le cgl contro di me per dire il lavoro ce lo deve dare tu adesso avevo avuto la legge e il lavoro ce lo deve dare tu no non fa battaglia collocamento per il diritto che l'avviamento al lavoro e ci facciamo un'indagine di riconoscere anzi un giorno prima andiamo sul comune di fare un ordine del giorno di convocati insediamento della commissione di collocamento per estendere le liste per l'occupazione perché i lavoratori hanno bisogno e le aziende ci avevano anche bisogno e c'erano le olive quattro dite sotto le piante organizziamo per la prima giornata 34 bracciante donne andammo sull'azienda e raccogliamo le olive e lì intervenirono i marasciali carabinieri colonnello dei carabinieri di manduria compagnia di manduria sull'azienda giovanni casalini anche lui era presidente dell'unione agricoltore e quindi ci ha mandato tutta la giornata la per continuare a raccogliere le olive le olive il padrone non ha dato i sacchi per riempire le olive né un trattore per vagare le olive abbiamo preso dei deli abbiamo messo tutto a un a una meta tutte le olive là la sera e l'abbracciante sono ritornati siamo andati a lavorare e il lavoro non non volevano sapere niente di assumere questo qua viene dottor giancaspi la sera ci faccio una nuova riunione sul comune e il sindaco di samarsano cataldo cavallo allora cercando di convocare un po di aziende di assumere la mano d'opera e cercando di individuare tu puoi assumere 4 5 puoi assumere 3 puoi assumere 7 puoi assumere 10 mentre facciamo questa cosa ritorniamo alla camera del lavoro e dicono no lorenzo vedi che proprio l'azienda del sindaco sono le olive così nell'azienda sua e noi stanno accogliendo e lui collaborava con gli agrari e quindi la mattina abbiamo organizzato di nuovo io e insieme al compagno trani e compagno gino di palma compagno gino di palma che veniva solo sull'azienda e siamo andato 27 lavoratori in un'azienda e il 34 dell'altra nazionale non abbiamo lasciato la le denunce dei carabinieri coronelli con gli armetti con gli ammiteri tutti gli stessi che avevano la guerra dell'ucraina sembrava allora questa cosa e quindi veniamo tutti denunciati in quel momento si insediò la commissione di collocamento facendo sempre una lotta su questo campo qua né e quindi nel stesso tempo usciva anche la varietà salariale tra donne uomo la quale era sempre l'azienda casalini che era presa dentro l'unio agricoltore dopo di che uscimmo anche a organizzare poi durante un nuovo contrattuale delle presidie tra la mattina per i braccianti che uscirono fuori dal paese e quindi affrontammo la causa dalla quale il giudice dottor Vito Vozza di quello con lavoro sciopero alla rovescia sull'azienda andammo in quelle circostanze là sull'azienda questo questo sciopero alla rovescia doveva andare oltre 60 persone sul tribunale e allora chiese al comune di San Giorgio Ion che c'era la pretura di San Giorgio di fare nella palestra della scuola il processo di questi braccianti questo in questo momento fu rinviata il processo che non era possibile fare un processo nella scuola alla palestra della scuola elementare di San Giorgio Ionico e fu rinviata a Taranto il processo dopo la quale poi fu tutto assolto perché non abbiamo rubato niente abbiamo fatto la lotta avete fatto una lotta perché non volete i lavoratori che dovevano lavorare in questa in queste aziende in questo era un attacco degli agrari gli agrari insieme alla democrazia cristiana chiamano l'avvocato acquaro e fa un gomizio lì a San Marzano contro la cg e contro il partito comunista contro tutta la sinistra dicendo che ermo noi che vogliamo cacciamo la terra agli aziende a tutti sentite voi prendete l'integrazione comunitarie sugli olive la proprietà privata deve essere ma deve avere anche una funzione pubblica la proprietà privata non può essere che lo stato le tasse delle persone vanno in quella direzione e non ha una funzione una rigatuta occupazionale per il lavoro per far campare i lavoratori braccianti dopo di questa viene un'altra esperienza dalla quale aumenta il caporalato su questa cosa questo caporalato che succedono degli incidenti su San Marzano sono morte delle persone a ciglia messabbi che sono morte le artere incendenti durante il percorso che si lavorava e quindi sono morti incendenti anche di lavoratori di San Marzano che hanno fatto incendenti tutti contusi 27 tutti all'ospedale quindi a Bari furono tutte ricoverate all'ospedale di Bari un'altra ragazza morì con un incidente stradale mentre tornava dal lavoro e puntiamo su quel libro là l'abbiamo messa quella quella ragazza la quella signora un'altra compagna che andava a raccogliere le fragole nemmata Puntino le braccianti donne erano di più cioè stavano erano di più le donne perché gli uomini erano quelli che erano emigranti che erano quelli che stavano all'area industriale di Taranto che avevano migrato dal nord nel triangolo industriale del nord quindi Milano Torino in quelle zone però romanevano le donne le donne quelle che stavano in agricoltura che stavano certo che credevano loro per crescere i figli tutto il comune di San Marzano in quegli anni aveva un'altra diciamo cultura che era la produzione del tabacco tutte le ragazze e ragazze erano impegnate per la coltivazione e la raccolta del tabacco erano impegnate a lavorare entri le famiglie in questa maniera e quindi era un grande risultato una grande risorsa questa qua erano le donne più che erano impegnate sia per il tabacco sia per la raccolta di questa di questa produzione e quindi le donne quelle che stavano iscritte quando abbiamo conquistato la parità salariale nel settembre lì c'è sostanzialmente lo scontro forte e alcune che convince anche gli stessi braccianti per dire vabbè la donna è inferiore e quella è superiore quindi non può essere la stessa cosa e quindi è quello di spiegare che noi dal punto di vista umano siamo tutti uguali il lavoro è uguale quello che fa quello non lo fa quello ma il lavoro è tutto uguale deve crescere in questa maniera e quindi sono state le donne quando sono riuscite le lotte di più importante almeno nei comuni in quegli anni erano le donne quelle donne riusciamo a portare avanti la battaglia più forte grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.